Oh no, che guaio! Non ci cercavate, amici? Forza ragazzi, sbrighiamoci prima che sia troppo tardi! Non c'è nessun posto, dove andare! Oh, un portale! Oh, un portale! Non abbiamo altra scelta! Ehi, dove andiamo? Ehi, dove andiamo? Dobbiamo andare! Non c'è tempo da perdere! Ehi ragazzi, ma dove siamo? Un momento, siamo fatti di cubi! In che guaio ci siamo cacciati stavolta! Ehi, ci sono altri crattori qui! Oh, cavallo! Oh mamma, c'è sereno! Sì, ma dove siamo? Ci sono mucca e conigli! Guardate, anche pecore e galline! Ho capito dove siamo! Siamo dentro Minecraft! Ma in che cosa? Minecraft è un gioco fantastico! Ma io non ho voglia di giocare! Vado a casa, questo posto fa davvero schifo! Seguitemi ragazzi! Cuttrap, allontanati di lì immediatamente! Che vuoi? Ma di che parli? Ehi, ma... No, il portale! L'ha distrutto! Come facciamo a tornare a casa adesso? Dobbiamo procurarci legno per costruire un piccone di legno e poi quello di pietra! Con quello di ferro prendiamo i diamanti per realizzare un piccone di diamanti ed estrarre l'ossidiano e per creare un altro portale e tornare a casa! Inizio subito dalla legna! Inizio subito dalla legna! Sarà facilissimo! Ahahahah! Grande! Ehi! Magliali si attenta! Nooo! È stata tutta colpa mia! Non meritava una porta simile! E vai dal cibo! Sono così affamata! Meno male che ho trovato questa deliziosa bracciola di magliale! Non gioco da un po' ma credo di ricordare come si realizzi un piccone da zero! Ed hop là! Il primo passo per tornare a casa è un piccone di legno! Ehi! Ma cos'è stato? Grazie del legno, cane! Ma come osi? Dammi il mio piccone! Dai! Non è così male dopo tutto! Ahahah! Qualcuno mi aiuti! Dove pensi di andare? Affrontati! Smettetela! No! Da questa parte! Forza! Sbrigati! Arrivo! Tempismo perfetto! È la tua fine! Dillo ai miei cubi di fanco e melma! Ah! Così da un mare! Ah! Attenti! Siamo al sicuro! Ah! Che bello! Scusate! Questo era fatto con me! Che c'era? Attento amico! La situazione ci è scudita di mano! Ah! Sì! Tra poco ci va! Fermo! E poi affucerà! Ho scoperto da voi! Ho scoperto da voi! Ho scoperto da voi! Questa è la fine! Perché? Tutta la nostra preghiera! Ehi! Qualcuno è venuto in nostro soccorso! Ma se no! Happy Ops Coach ha il tuo servizio! Indietro coni! Non farete dal malo ai miei amici! Ci salveremo! Che fortuna! E ora di scendere finalmente! Ehi ragazzi! State bene? Sì! Sì! Grazie! Ho fatto un piccone di ferro! Possiamo raccogliere gli amanti che ci servono! Dobbiamo sbrigarci prima che faccia buio! Cosa sta succedendo? È impossibile! Aaaaaaah! Ma stiamo scherzando! C'è la tua strafine creaturazza! Vogliamo mangiarci vivi! Raffeggiamo noi ragazzi! Aio! Cos'è stato? Siamo i padroni delle notti! Raffeggiamo! Ti prego fai attenzione! Raffeggiamo! Raffeggiamo! È finita! Io non credo! Raffeggiamo! Ok sono pronta! Non ho paura di voi ragazzi! Aspetta il momento giusto per agire! Per la forza di Grayskull! Raffeggiamo di testa! Ora ti prendo! Non dovresti sottovalutarmi scheletro nel secchito! Oh no! Aiuto! Mi puoi sparire! No! Non le farai del male! Un cazzo! Il mio pezzo ricco! Ha paura di me! Prendi questo! Forza andate a prendere i diamanti! D'accordo! Noi andiamo! Forza facciamogli la vedere! Forza non c'è tempo da perdere! Penso di aver sentito qualcuno! Ma dove? È la nostra occasione! Lo vedi anche tu Cutnap? Corioso! Che ci sarà dentro? Wow! Guarda che posto! Ci sono un sacco di pozioni di sete qui! È il laboratorio di un pazzoide o cosa? Eh? Credo di sì! Cosa abbiamo qui? Guarda un baule! Chissà cosa c'è dentro! Ahahahah! Pozioni a volontà! Ahahah! Che bello! Ahahah! Non lo guardo! La porta era aperta! Sono tornati! Oh no! Che succede lassù? Defondiamo ciò che è il nostro! Ed ora che facciamo? Non lo so! È troppo tardi per scappare! Li abbiamo presi intrusi! Ma cosa? Cioè... Erano solo animali! Ha funzionato! Sì! Sei un genio! Siamo stati fortunati a trovare la poccina in tempo! Ah! Non c'è la normalità! È stato divertente! Andiamo! Li abbiamo seminati! Evviva! È colpa! Non potete andare! Da nessuna parte! Andiamoci le gambe! Sei antipatico! Era arrabbiato eh? Stai bene amico? Sì! Pensa di sì! Guarda! È proprio quello che stavamo cercando! Diamanti! Forza! Prendiamolo un po'! Abbiamo passato tutto il giorno a cercarli ed ora siamo a pochi passi dal poter finalmente tornare a casa! Ma che roba! Con quel piccoli possiamo finalmente ottenere l'ossidiana! Perché non iniziamo con questa grotta per nulla sospetta? Mi sembra una buona idea! Andiamo! Oh! Quanto apri meglio! Mamma mia quanto è buio qui! Ci sono! Ora creo una torcia! Credo di aver sentito qualcuno! Silenzio! Non può federti! Allora tutto bene amico! Va bene! Agiriamolo dai! Ok! Ehi! Nessuno può ingannarmi! Guarda ci impara! Un santo gattino! Un teschio! Sono cieco! Non sordo! Oh no! Scappiamo! Ah! Vi ho trovati! Ora vi distruggo la introse! Attento! Penso sia finita! Non ne sarei troppo sicuro! Maledetti! Silenzio! Guardala! Finalmente abbiamo trovato l'ossidiana! Mi è venuta un'idea! Tu prendi l'ossidiana mentre io lo distratto! State rubando l'ossidiana della mia caverna! Fatela con uno della tua stessa stazza! E vai! Distruggilo! Agli ordini padrone! Pronto! Prendi questo! Troppo detto! Golem! Ok! Ora siamo nei guai! Posso sentire il totore a un miglio di distanza! Pensavi davvero di potermi sfuggire? No! Per favore! Dile tue preghiere intruso! Ma che facciamo? Nessuno ruba dalla mia caverna! Gatrap attento! E questo era l'ultimo! E vai! È finito per te! Ma sbrigiatelo! Ho di rimanere stordito! Vieni guardiamo! Vieni a prendermi bello! Come osi trattarmi così! Non avrò alcuna pietà! Vediamo cosa puoi contro la mia fortezza impenetrabile insegnatemi da Kinger! Fatti sotto! Fortezza impenetrabile! Che sciocchezza! Gatrap sbrigati! Sto facendo del mio meglio! Vuoi fare del tuo meglio più veloce? Hai paura di morire o cosa? Ho quasi finito di raccogliere tutta l'ossidiera che ci serve! È la tua fede! Cattrap aiuto! Ti sto provando, ok? Mi sta per disintegrare! Attimo! Mamma è la fine! Guardi i tuoi ultimi respiri, cagnaccio! Mi uccidemi ti prego! Lascia andare il mio dito! Ai miei occhi! Ok direi che ho di andare! Sì il mio eroe! Ringraziami ti amo! Ok e adesso? Ehi ci sono dei maiali camalcabili! Non c'è tempo da perdere! Sono pronta! Anch'io! Andiamo prima che sia troppo tardi! Tornate qui in piastri! Oh mamma! Siamo circondati! Ho cambiato questa bomba! Attenzione! È da quella parte! Inseguiamone! Non avrò pietà con quei bambèi! Oh no! E allora che si fa? Ma un mio salvataggio baby! Ha! Oh no! Non ho più armi! È finita! È davvero la fine per noi! Non ci intervegliamo prima noi! Sì! Wow! Silenzio mostro! Piccone di diamanti! Hai preso l'ossidiano! Non potevo deludervi! Maialino! Ehi! E quelli che sono! È finita! Ma è l'integratore! La farà mai tutti i nostri! E adesso che si fa? Contruisci il portale! Sì hai ragione! Non ne ho mai realizzato uno! Ma credo di ricordare la forma del portale che ci ha portato fino a qui! Ora ci avete stoppato! Disintegriamone! Cazzo! Sbrigati per favore! Nessuno potrà salvare! Ma che fa? E questo è l'ultimo! Opla! Ora se ricordo bene devo solo accenderlo! E dai funziona! Dite le vostre preghiere! Non voglio morire! E dai muoviti! È finita! Andiamo ragazzi! Il portale funziona! No! Non è giusto! Ci sta chiudendo! Ce l'abbiamo fatta! Siamo tornati a casa ragazzi! Ce l'abbiamo fatta ragazzi! L'ha mai fatta! Ehi! Mi sono mancata! Barbe! Barbe! L'ho già seminata! Sono più veloce! Sciù! Abituti a inginocchiarti davanti a me! Cosa stai dicendo! Ora dicem... Cosa? Non ho fame grazie! Alla cena sei tu! è troppo tardi per le preghiare cos'è stato? smettila di fingere ti sei fappata sputtala subito avanti sputtala sbrigati ancora un minuto lì dentro è diventato Hulk per l'ultima volta smettila di dare noio ai miei amici sorella è impossibile parlare con lei grazie per avermi invitata al tuo tifar sei sempre la benvenuta alle mie feste perfetto poi altri biscotti grazie mille ma che lì voglio del tè anch'io Hoppy stai bene? sembri strano? già Hoppy non succederebbe mai le stamiche o la sorella di Cana lascia giù potrei divertirmi un po' è bello quando le fredde corrono dobbiamo trovare aiuto dobbiamo che sia troppo tardi per quello ti dole vostre ultime preghiare ti prego non voglio morire no chi ci può sanno mi salverà ancora una volta fermati prima di fare una festina ti torno aiuto stai bene? una meno? oh non si veritava tutto questo la vita è ingiusta che è successo? la sorella l'ha uccisa non è possibile e io che peppello ne so hai ragione mi dispiace amica mia ma sei divina? aiuto il segno ero così preoccupata per te meno male ma dobbiamo trovarli in fretta disfrazio no se faccio qualcosa al ricordo sono completamente distratti se i calcoli sono corretti la soluzione è far esplodere della dinamite strategicamente piazzata che gli farà fare boom cos'è stato? oh zo mi vogliono fare senso io me lo so male torna qui scemo si mette male no 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 ti preverò si fa mi che vuoi non fermiamoci spero che questo passi ti sto nel calcagno oh no non lasciamo a distanziarlo mi sono preparato con Mario Kart a questi momenti smettetela direi Sterby lasciate che le bombe vi uccidano a tezzo buzza sono bravi sono bravi devo ammetterlo ma nessuno può vincere contro la mia pozione voglio vedere che fanno ma stiamo qua ho perso un controllo oh bomba oh la bomba scusate ragazzi ma quella bombetta è un po' prezzo per non mangiarlo Karnap ha rovinato il mio piano sono stufa di quel gatto ma la stavo facendo tutto Karnap Karnap ti sei salvato la vita dovete fare attenzione nascondetevi per favore sì è una fredda devo trovare quella bisbetica che starò combinando ora finalmente ho un giorno libero per vederti piccolo oh che male hai fame? eh sì mi hai beccato mi cucina qualcosa? cosa? ma dici sul serio? commettiamo ragazzone mi cucina pure è perfetta ho un'idea la ricetta sembra essere difficile è lunga ma quel bel cagnolone se lo merita aspetta che succede? ma che aspetta? oh oh la tua ragazza è qui come hai potuto farmi questo? abbiamo chiuso ma è colpa tua no tesoro non lasciarmi è una perdante non hai bisogno di lei? tu non capisci come mi sento si chiama così tanto perché ti ha lasciato cucciolotto? tutto ciò che fai è malato e sbagliato sbagliato? ti faccio vedere cosa è sbagliato non osare a puntare il dito contro un'altra volta la prossima volta te li stacco tutti uno per uno sobbiano a costringermi che ti non fai forte e chiaro ma ti prego lasciami andare nessuno mi dà ordini per farmi morire oh cosa? facci una calmata bella ho visto quello che fai ai miei amici ora basta cosa? ma non ho fatto niente di male fratello io appena peccata che cercavi di uccidere Dog Day con quel coltello vieni con me assolutamente no nessuno mi dà ordini capito? questo è brutto stupido ma perché ti comporti così? nessuno può pararsi dinanzi a me voglio paparmeli tutti e tu me lo stai impedendo ora basta cosa? stai un tanto da me tu non gli farai dell'altro male sono stufa di te cagnazzo vieni qui adesso te la faccio vedere io spero che tu sia pronto a morire catrap corri hai ragione stanzetto adesso devo inseguirlo che scatole devo seminare il primo possibile dove sei? sacco di fuci non potrebbe andare peggio andare peggio? ho intenzione di unirti a me sorellana attenta alle spalle oh ma dai guarda che non ci casco era tutto vero oramai non importa più sorella no siamo arrivati il primo possibile catrap stai bene no mi prego qualcuno mi aiuti si e vai è finita sorella resisti sto arrivando catrap ricordati tutto quello che ci ha fatto poi sono mi aiuti mi prego sto per morire mi dispiace ma è mia sorella e non voglio lasciarla andare ma io ho fame avanti chiedi scusa ah vabbè fa lo stesso grazie per accettarmi guardi qua pensi di esserti saldata dai miei incredibili aspetta cosa io credi non ho capito i miei incredibili biscotti che ho fatto la mia ricetta personale ciao io sono qui aspetta cosa ragazze ma per favore mamma siete matte sono così soffici fammi un autografo prima me stai zitta smettetela lì oh no perché non si prendi a me avanti dobbiamo andarcene dai 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 ragazzi stanno scappando seguiamoli oh no forza nascondiamoci di lei dai ehi ma dove sono non riesco a vederli boh io non li vedo oh penso di averlo visto oh oh stanno arrivando ti salvo io bau bau lo avete sentito andiamo meglio a vedere dovrebbe essere qui intorno non c'è dove può essere meglio cercare altrove so che sei qui dog day c'è mancato un pelo ecco di qua dog day dog day lascia mi amare devo scappare prendete questo io me ne vado oh dog day è troppo forte reagisci ce n'è andato non lasciamo entrare oh è una porta e ora che facciamo dog day ma cosa voglio ma che ne so io ehi guardala guardate il nuovo merchandising di dog day abbiamo le magliette abbiamo i peluche ed i poster solo per voi incontrate dog day questo è spiegato dog day oh no stanno entrando la mia testa lasciatemi andare ok ora state esagerando sono un cagnolino carino ma non la vostra bestia e ora lasciatemi in pace come si è fatto fantastico sei un grande cosa ti abbiamo capito ma non la vostra dog day stai bene ti prego aiutami vieni qua adesso basta ti aiuterò io amico mio fatevi una dormita grandissimo grazie non fallisce mai adesso andiamocene spero che siamo al sicuro hai sentito cos'è stato il nostro piano sta funzionando è colpa loro dobbiamo fargliela pagare siamo ricchi siamo ricchi abbiamo fatto i milioni oh no come vi permettete posso spiegare abbiamo passato l'inferno a causa certo non può famici parlare è la mia immagine che vendono ora non andrete da nessuna parte perché diamine state facendo una robaccia del genere è stata colpa mia è stata una mia età penso che sia meglio per entrambi se pagate per quel che mi avete fatto oh no siamo noi guai lasciate che dimostri quanto sono forte ecco prendi parte dei soldi non voglio i vostri sporchi soldi voglio giustizia oh no ti prego non ucciderci che succede? siamo qui siamo qui oh no sono scappate non so non so non so che salvo io doggday lasciatemi in pace andatemene siamo più forti di me abbiamo un lavoro da fare nooo oh no cosa posso fare per aiutare che per sempre ho sempre avuto fiducia nel progetto doggday immediatamente sono stufo di tutte voi adesso conoscerete il vero terrore mamma cosa oh mamma venite qua no no prego non mangia prego ora ti mangia prego aiuto stavo scherzando ma non voglio mangiarti voglio giocare con te mi sto facendo è passato un sacco dell'ottima volta che ho giocato a bull oh no e sono ancora un campione mamma che paura ci conviene andarcene finché siamo in tempo forza dai andiamo non andrete da nessuna parte e dai ci dispiace oh no ma che fai la punizione è perfetta ehi chi vuole essere la prima ok ecco 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 Fermo così? Per quanto tempo dovevo raffare così? Stai andando alla grande, continua così! Mi presti il rosso? Oh, certo! Ecco a... Te? Aspetta, ma dov'è? Era proprio lì! Mi prendi in giro? Non è divertente! Ma non sono stata io, lo giuro! Uffa! Ma ci siamo solo noi due e chi vuoi l'abbia fatto sparire! Che ne so, forse l'hai già usato tutto! Cosa? Ehi, aspetta un secondo! Il mio dipinto! Oppi, l'hai rovinato! Ma se mi hai chiesto il rosso in prestito! Sai cosa? Penso che il tuo dipinto manca un po' di vetri! Che male! Ok, ragazza, mi hai fatto arrabbiare! Ragazze, non devo rimanere così! Mh, sembra praticamente conto! Torna subito, mister pisciolino! Ehi, dov'è mister pisciolino? Sarà tornato al mare! Meno male che ne ho altri! Oh, giusto! L'inserata! Ah, rieccoci! Oh, ma non di nuovo! Avranno nostalgie di casa! Ok, niente più del ru... Oh no, ho scordato il cognimento! Torna subito! E prima! Alta prima! Ah, ma non di nuovo! Eh? Ora basta! Chi mi sta rubando il cibo? Esci fuori! Antina miena! Oh! Trovata! Vieni fuori, chiunque da sia! Ma non mi ha paura! Mi mi... Tanta sia presa! Ora ti... Wow! Che fortuna! Ehi, vieni qui, maialina! Cosa? Dovrei mangiare di orsai! Mi dispiace! Ci sono quasi! Ma non è pericoloso, bambi! Non rompere, gli orsi sanno arrampicarsi! Oh, se l'ho deciso! Oh, cadolette! Che bello il vento che abbiamo qui! Mi muovo la cacca! Senta rasore! Forse non dovresti... L'ho preso! Ehi! Che succede là giù? Non è Minecraft! Niente Minecraft! Niente Minecraft! Cagavami! Pupa, aiuto! Che ti ho fatto con le marce! Oh, che bambino pestifero! Non ti disacca! Eccolo lì! Mamma! So che sei stato tu! Hai sabotato la mia arte! Mi hai rubato il braccio! C'eri quasi seccati! Mi dispiace! Oh, un canto! E' anche un vivo! Non è andato per me! E' mima! Prendetela ragazza! Non lasciatelo scappare! Anche io! Un piccolo sardino! Ero di monte! Maledizione! Ci sto sfuggendo! Ma non mi devo aver vinto! Torna qui! Fast and Furious! E' di presto, sai? No! Che schifo! L'uomo è nel nido! Ricevuto! Forza, ragazze! Oh, non lo so! Ora lo prenderemo di sicuro! Oh, no, amici! Oh, no! Pronto per bocchia! Non canterei, Vittoria! Tanto presto, sai? Oh, no! Oh, no! Il mamma è dentro la finestra! L'hanno tornato a casa! Papà è occupato, piccolo! Ah, e dai, non vale! Eh? Oh, ma guardati! Sei proprio adorabile! Non è vero! Mamma, mamma! Ma che succede? C'è qualche problema? Sì, il tuo piccolo mostriciattolo! Cosa? Ma è solo un bambino! Ed ha rovinato la giornata a tutti! Ma chi? Questo bimbetto? Ragazzi, siete matti? Ehi, ma che cosa... Santo cielo! Forza, ragazzi! Non lasciamocelo sfuggire! E dai, ragazzi! Sono sicuro che possiamo parlarne! E anche tu! Fai finta di scusarti! Eh, noi puntate i bubù! Come immaginiamo! Presa! Piccolo, no! Ehi, mi ridatemelo! Andere, fermo lì, cane! O dormirà con i pesci! No! Lascialo andare! Lascialo andare, dice! Ehi, no! Ciao, tesoro! Hai per caso visto il mio piccolo? Mamma! Stavamo solo giocando! Cosa stai facendo con il mio bambino? No! Ah! Signor pesciolino, sto arrivando! Tesoro mio! Mamma! Stai bene! Lasciate in pace mio figlio! Ciao, tesoro! Mamma! Ero così preoccupato! Sta bene, ora! Hai i vostri ordini, padrone! Sei il mio miglior soldato! E come tale, ti chiedo di trovare e uccidere questo maledetto catnap fino a sbriciolarlo in minuscoli pezzettini! Ehi, perché l'hai distrutto? Scusa! Che casino! Ma ora ti è chiara la natura del tuo obiettivo! Ed ora stendilo! Forte e chiaro, signore! Di a per scontato la mia vittoria, signore! Continua così, Dark Day! Sta venendo una meraviglia! Il mio obiettivo è proprio lì! Ce l'abbiamo fatta, catnap! Aditi la tua nuova casa! Grazie, amico! D'ora in poi finalmente smetterò di dormire sul tappeto! Grazie! Prego, amica mio! Cerca di tenerla pulita perché il legno potrebbe marcire! Ma la casa è finalmente pronta! Ed ora è tutto per te! Catnap è dietro di te! È ora di morire! Ops! Mi ha scoperto! Inutile nascondersi a questo punto! Aspetta! Stai fermo! Che bello! Non ho mai visto una gatta carina come te! Aspetta, lo pensi davvero? Grazie per il complemento! Ti organizzerò una sorpresissima, tesoro! Va bene, andiamo! Che diavolo è successo? Arrivo, tesoro! Dovresti farlo cadere stacchito, non ai tuoi piedi in lavorato! Ma sembra dolcissimo, è così ho pensato... Ti vorrei rischio di amare il mio catnap! Ricevuto, capo! Eccellente! Ora continua il lavoro! Che peccato! Ehi, eccoti qua! Ma dov'eri? Sono stata distratta da una farfalla! La tua sorpresa è prontissima! Andrà a finire sicuramente male! Prima di tutto prenda posto, milady! La cena arriverà a momenti! Spero che sia di tuo gradimento! Ecco a voi, signori! Hai fatto tutto questo per me? Oh, grazie! Ma questo è il minimo, tesoro! Oh, mondo gatto! Che giusto! Sono contento che ti piaccia, tesoro! Posso mangiarla in un sol boccone? Gnam! Vedi? Oh no! Smettila di bichellonare! Il tuo obiettivo è davanti a te! Terminalo! Ma non sono ancora pronta! Non voglio farmi del male! Come faccio a sapere che sia la cosa giusta? Ce ne occuperemo insieme! Sì, hai ragione! Niente può batterci se collaboriamo! Sì! Però... Fine della ricreazione! Ora, battilo! Me ne pentirei per sempre, lo so! Ed ora cosa faccio? Sì, devo farlo! Però a che prezzo? A me non piace, in realtà! Sì, devo essere forte! In fondo, ha ragione lui, ho una missione da compiere! Bravissima! Non la deluderò, boss! Ogni tuo desiderio ha un ordine! Tesoro, ma tu mi ami? Ma certo che sì! Bendita! Allora, ti prego, perdonami! Sì, fallo! No, non posso farlo! Ti amo pure io! No, lo sapevo! Ehi! C'è qualcosa che non va, tesoro! Siamo entrambi in pericolo! Cosa? Perché? Non importa! Se ti fidi seguimi, ti prego! Va bene, va bene! Potrebbe essere ovunque! Da questa parte! Arrivo! Poi dovremmo essere al sicuro, almeno per un po'! Non sto capendo! Da chi è che ci nascondiamo? Da un cattivo cattivissimo! Oh, ma come quello del film o cosa? Stai allerta! È più veloce di quanto sei! Se vuoi che una cosa sia fatta bene, è fatta da solo! Non fargli del male! Quel fatto! Non l'ho portato qui per te! Lascialo andare! Lasciali andare! Vedrò quello che ero fuori deliziato! Non puoi farlo! Apri bene gli occhi e la vola! Oh no! Che pasticcio! Non posso lasciarglielo fare! Sarei una gatta cattiva! Ehi, e quello cos'è? Povero micetto! Ti amo con tutto il mio cuore! Se collaboriamo, supereremo tutto! Mi mancherai, gatto pazzo! No! Invece devo andarlo a salvare! Perché è tutto sotto sopra? Lasciami andare! Oh no! E' anche quello di quel che pensassi! Ah 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 ah! Sarà la tua fine! Ah no! Ah dai! Non riesco nemmeno a muovere le dita! Sono amato come sono messo! Ma non ho paura! Katina poi mi salverà! Ne sono sicuro! Ah 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 ah! Che spazzo! Oh! Ma che ti ride! Ha lavorato per me fin dall'inizio della vostra relazione! Per tutto questo tempo voleva uccidermi! Non ci posso credere! Ah 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 ah! E' ora di morire! Spero proprio che ti piaccia le femmette! No! Assolutamente no! E' così che finisce per me! Sì! Ah 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 ah! Adio! Sei sicuro che non ne possiamo parlare? Sì! Prendi questo! E' ora di fermare questo fettino! Non voglio morire così! Eh? Katina! Si è venuta a salvarmi! Ah 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 ah! Maledetta traditrice! Tu non mi possiedi! La pagherai maledetta! Neanche per idea rossame! Non avrei mai dovuto chiedermi di te! Devo assolutamente andarla ad aiutare! Ti ho chiesto di fare una cosa e sei riuscita a parlare come una miserabile! E tutto questo è un'ottima amore! E tanti per chiedere pietà morirai per prima! Io non ho mai voluto aiutarti! Ma eccoci qui Katina! Dopo tutto quello che ho fatto per te! Tu mi ripacchi così! Ah questa! E' più forte di quanto pensassi! Che cosa? No nulla! Ah stai bene tesoro! Sì grazie! E' ora di farla finita! Prototipo! No ti prego! Ti sei scordata di come mi sono preso cura di te quando eri una cucciola! Non posso dimenticare il tuo aiuto quando nessun altro voleva ma... Ti prego non parlo! Ma tu... Spingila! Ha cercato di ucciderti! Hai ragione! Prototipo per te finisce qui! Grazie di tutto! Katina no! Ferma! Non puoi farmi questa cosa in cuore! Non ti preoccupare! Hai fatto la cosa giusta! E ora possiamo stare assieme! Hai ragione! Grazie per avermi salvato! Ehi ti devo un favorone! Ma sono contenta ora! Oh!